I greci hanno iniziato di essere scienziati, loro hanno iniziato di scoprire le varie cose e loro volevano applicare più logica per il caos nel mondo che hanno visto. E loro hanno detto sì, ci sono tante cose che possiamo toccare, tangibili, sì, però dietro c'è qualcosa, c'è un ordine o dietro vogliamo scoprire come queste cose sono arrivate e hanno iniziato a fare queste filosofie, sophos è la parola greca di saggezza del mondo, saggezza tra uomini, filosofia. E così c'erano molti come Socrate, come Aristotele, si pronuncia diversamente in inglese così, ci sono altri che, Epicuris, c'erano molti che loro avevano, erano la celebrità di quel giorno, potevano annunciare e predicare nella piazza la loro filosofia e hanno trovato dei seguaci. Adesso tu clicchi, segui, di seguire una persona online, loro sono andati in piazza per seguire queste persone. Poi subito dopo, la cosa importante è, ad Efeso c'era questa Artemide, questa è una foto molto generosa di lei, questa è la foto più bella di Artemide. Artemide era una brutta pietra dallo spazio, un meteorite che è caduto, che loro hanno tagliato e hanno fatto come una dea di fertilità. Lei aveva controllo sulla creazione, lei era la cacciatrice della notte, lei poteva decidere che bambino può nascere o no, chi può continuare la loro vita, che anziano poteva continuare e loro hanno costruito un tempio Artemide che era la struttura più grande in tutto, tutto il mondo di quell'epoca. E così, lei, come è vista qua, è in forma di una che caccia, perché lei aveva potenza sopra la creazione, sopra gli animali, era sovrana. Ma ad Efeso c'era tanta tanta ingiustizia e lei era saputa, pensate, lei diventava Diana di Roma, Artemide di Grecia, Diana di Roma. Lei ha avuto, vuol dire, la simpatia che nessun altro aveva, perché era femmina, figura femmina, ma anche ha deciso destino e cosa ha fatto? Ha portato le persone in schiavitù degli idoli e della superstizione e poi della magia. E così il diavolo lavorava alla grande in quella città. Quello era il loro mondo in quell'epoca, ok? Allora, pensando così, il nostro mondo, Paolo sta scrivendo in questo, vuol dire, in questo ambito, in questa cultura, in questo modo di pensare. Ma noi abbiamo cambiato, i tempi sono cambiati, vero? E noi pensiamo in un'altra maniera. Oggi noi abbiamo persone che provano di cambiare del pianeta. Questa scorsa settimana hanno incontrato a COP26 per cosa? Trovare più tasse da voi, come possono estrarre più soldi da voi per cambiare proprio il clima del nostro mondo. E vogliono essere proprio, vuol dire, loro vogliono tirare le leve e girare dalle varie cose e essere grandi, eccetera. E poi abbiamo persone che sono della celebrità. Pensate, ci sono delle più grandi celebrità che guardiamo in televisione e sull'internet. Ma la cosa qui, nel nostro mondo, è che tu diventi una celebrità. Che tu diventi celebrato vuol dire che tu puoi usare TikTok e diventare proprio il mezzo del tuo teatro, essere sul palco scenico e avere molti seguacci proprio della tua vita, ok? E così ci sono molti che vogliono essere seguiti e questo vuol dire che l'idea di celebrità, ognuno diventa un dio di se stesso e molti possono seguire, l'influencer, diciamo, adesso. Ci sono dei fabbricanti dei J.G. qua. Questo è Elon Musk, è un inventore, non so, lui ha inventato, sta portando persone alla Marte, adesso sta preparando per andare alla Marte. Lui ha detto, questo hanno annunciato, quando stava facendo, lui ha inventato Tesla, vuol dire il capo di Tesla, così la macchina che fa finta di guidare da se stesse, ma uccide molte persone. Allora, tutti questi giochi, giocattoli, eccetera. Lui ha detto questo, Ado, che andiamo alle Marte e speriamo per pochi anni, due, tre, quattro anni, vogliamo fare la prima missione con persone, ma le persone, voglio dire, che probabilmente non sopravvivete. Quando le persone hanno sentito, quello andava virale, andava ovunque nell'internet, e c'era una fila, proprio un allenco di persone dicendo, voglio andare io, voglio andare io, voglio andare. Lui ha detto, ma probabilmente non ritornerete, morirete tra pochi mesi, va benissimo. E stavo leggendo i commenti, perché ho detto, lui sta facendo celebrità, lui adesso è l'uomo più ricco nel nostro mondo. Questo Elon ha sulla sinistra. Lui ha più soldi, lui ha 289 miliardi di dollari, una cosa del genere. E così sta andando avanti. E poi, lui diceva questo, e stavo guardando ai commenti delle persone. Durante la sua conferenza, persone hanno urlato, salveci ora Elon, salveci ora, con la tecnologia, con più giochi, ok? Per avere una vita più meravigliosa, stanno cercando la gloria nella tecnologia. I commenti, dal suo commento, che probabilmente morreranno, la prima cosa ho visto è, c'erano alcuni che hanno chiesto, ma vai anche tu? E apprezzavo quel commento. Ma l'altro commento era questo, se tu devi morire, sarebbe ottimo morire sul pianeta delle Marte. Perché devi morire, puoi morire in gloria. Ho detto, gloria? Non c'è neanche un fiore che cresce sulle Marte. Non è gloriosa, è una pietra, grande pietra, rossa, tanto polvere, tanto polvere. E io so che voi donne italiane non volete andare perché c'è troppo polvere. Devi sempre pulire ogni cosa, assolutamente. E allora, pieno di polvere. E che gloria di fare cosa? Un viaggio dicendo, a me non piace niente del mondo che Dio ha creato per noi, neanche della gente, altri umani. Voglio andare, essere visto e finire la mia vita, forse entro due, tre, quattro mesi, là e morire in gloria. Ma non è gloria. Se cambi il pianeta non vuol dire che c'è una gloria o una vita. Oggi noi non pensiamo tanto della vita dopo la nostra morte. Siamo molti consumati nell'ora, nel momento, vero? Vero? E noi diventiamo cinici e noi diventiamo sarcastici e noi diventiamo molto rigidi e anche giudici, con pieno di opinione degli altri e più isolati dentro di noi. E poi abbiamo dei marketer della storia. E la storia è che lui sta usando noi per fare più soldi e fare marketing e tutto quanto, ma utilizza la storia insieme con la pubblicità. E così sta mettendo, abbiamo visto scorsa settimana, che ha creato una nuova compagnia più grande che Facebook, che sarà Metta e dobbiamo insegnare voi quello che sta arrivando sulla Mettaverso, non universo, ma Mettaverso, dove entri un mondo digitale in tre dimensioni e parli con tutti gli altri e avrete il problema di discernere tra realtà e anche digitale, un mondo finto, è così, il problema sarà il conflitto tra questi mondi e molte persone, io vedo, esceranno, se posso dire, dal nostro mondo e entrano in questo Mettaverso per restare. Puoi comprare, con soldi, reali, puoi comprare una casa in questo Mettaverso usando soldi reali per passare una mini vacanza lì per giorni, essendo con un parecchio digitale. Ragazzi, noi abbiamo una... per i nostri figli abbiamo bisogno veramente di prepararli, di vivere nel mondo che è Dio, in cui Dio ci ha messo, ok? E questo sta arrivando. Però questo è il nostro mondo, quindi la Bibbia ritorna a questo mondo dove noi siamo più seculari, siamo più cinici, eccetera, perché noi non crediamo in Dio. Sì. Attenzione, forse per il rumore. Ho preso, ho fatto uno video questo scorso estate in vacanza e forse c'è il rumore del video, non potevo controllare stamattina per motivo di tutte le complicazioni che avevamo tecnologicamente. Quindi io accendo questo, se è troppo... ecco. Siamo, sentite, siete con me negli Alpi di Francia e questo è un ruscello che stava andando. Se tu hai fatto parte del mondo classico, vuol dire greco, di Paolo, quando lui sta scrivendo, quando hai visto un ruscello così, guarderai e tu dici, ecco, il Dio dell'acqua ha mandato questa acqua giù. Il rumore è il Dio del rumore. Se c'era pioggia o un temporale sopra, potevi dire il Dio del temporale sopra sta facendo questi rumori e ci sono questi battagli in natura. E non c'era il desiderio di vedere anche dietro cosa c'è, perché hai detto e hai creduto che c'è sempre una personalità che non ha interesse in te, in te non è interessato, ma è dietro e sta gestendo queste cose. Per il campo e con i fiori, il Dio della fertilità di quella zona poteva gestire tutto questo e tu guardi e dici, ah, di queste province, guarda quanto forte, quanti forti sono questi dei. Mi avete capito? Questo era un po' più o meno l'idea. O con il campo fuori, con tutti i cervi, puoi dire gloria ad Artemide, perché lei sta gestendo bene il suo campo. Ok? Nel nostro mondo, come vediamo questo riuscello? Noi guardiamo e diciamo, ma ci sono, c'è solo acqua che sta per caos, perché tutto questo è arrivato nel mezzo, è evoluto nel mezzo del caos. Tutto questo è solo acqua o pietre. Perché? Cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo negato, siamo cinici oggi, siamo secolari, non c'è questa esistenza, c'è solo scienza. E noi guardiamo alla scienza e diciamo, ah, ci sono questi particolari molecolari o molecoli che sono formati insieme per, e prestiamo la parola, creare questo riuscello. E così guardiamo e diciamo, ah, dietro c'è fotosintesi delle pianti, ci sono gli animali, c'è il cerchio di vita, vuol dire, di chi può mangiare, cioè, dal sole, perché il sole abbiamo misurato quanto distante e quanto caldo deve essere per mantenere un ecosystem del genere. e lasciamo là. Vuol dire che noi guardiamo solo alla roba tangibile che possiamo noi, guardate, noi misurare, misurare e dire, e giudicare e dire, ecco, la scienza, ma non guardiamo dietro, dietro. Un credente e quando arriva Paolo, lui sta predicando in questa maniera, lui sta dicendo come un credente, un cristiano, viene e guarda qui e cosa vede? Cosa vede? Vede la bellezza, tocca la bellezza, speramente la bellezza della creazione, il ruscello. Come ho fatto io, ho toccato questa acqua, ero lì, facendo un bel passo, è stata stupenda, sì, ma ogni volta che ho visto qualcosa stupendo, cosa ho trovato? volevo esplorare di più il Dio dietro, il creatore che nella sua mente ha parlato questa inesistenza. Ecco, noi serviamo un Dio, un cristiano vede questo, noi serviamo un Dio che si chiama Padre. C'è un Dio infinito, ma non solo una filosofia, non solo un meccanismo, non solo un potere che è inconoscibile, ok? No, Lui è infinito, ma si chiama Dio Padre, vuol dire Padre che genera, genera tutti noi, anche il nostro mondo, ma genera noi come Padre ai figli, c'è relazione, c'è amore da in Lui, se pensate, Paolo è arrivato in questo mondo dicendo, predicando ad Efeso e a noi oggi, che c'è un Dio che esisteva sempre in eternità, non aveva mai un inizio e nel mezzo di quello c'è amore nel mezzo della Trinità, amore esisteva prima del nostro mondo, alleluia, amore esisteva prima che siamo arrivati noi, non era che siamo arrivati noi, abbiamo sentito amore e noi abbiamo inventato quest'idea, no, 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 amore esisteva, perché Dio è amore e nella sua mente infinita, prima del tempo e prima dello spazio, Lui, essendo generoso, è sempre buono, non cambiando mai il suo carattere, né come il suo modo di agire, Lui, Padre Dio, ha creato con la potenza della sua parola, della sua bocca, sia la luce e la luce fu. E poi, Paolo dice che Lui in questo amore ha pianificato il nostro destino, non era da destinare o essere destinati da una Dea in un Tempio, o di trovare un modo scientifico per dire il mio destino sarà riconosciuto da tutti gli altri umani e muoro sulle Marte. Ok? Non è una cosa di determinare noi, no, no, no. Paolo entra e dice prima, nel passato, prima che è arrivato il nostro mondo, c'era Dio che amorevolmente ha pianificato il destino degli umani. Poi, nel mezzo del suo piano, l'oggetto del suo amore era il suo figlio Gesù Cristo presente nella Trinità. E Lui ha dato proprio la seconda persona della Trinità Trinità in cielo. Già prima che noi abbiamo rovinato tutto il suo mondo prima della nostra apparenza su questo pianeta, no? Lui è arrivato e Lui ha dato Gesù Cristo a questo mondo mostrando quanto Lui ama umanità. E così Gesù ha preso su di sé la carne nostra, ha camminato dove camminiamo, ha fatto per noi quello che non potevamo fare per noi stessi e ha vissuto la vita che noi tutti vogliamo vivere, che vorremmo vivere. Questo è Dio stesso camminando, che amore, per mostrare che Lui è un Dio intimo, non solo sovrano e infinito, ma anche intimo, è un Dio che viene tra di noi. E Emanuele, stiamo parlando di Natale che sta arrivando, no? Siamo sotto i piedi di Natale, allora, sotto le porte di Natale diciamo, allora, carissimi, il Signore ha camminato con noi come nessun altro Dio voleva scendere e essere con noi. Questo, dei che sono falsi, che non esistono, ma essendo una storia assolutamente sotto sopra, e per che motivo? La lode della sua grazia, la grazia e la sua gentilezza, il suo favore eternale che ha condiviso con l'umanità. Ok? Questo è il piano che Paolo predica. Guardiamo nei versetti, così vi ho dato un po' la chiave per vedere quanto ricco sono questi pochi versetti che abbiamo. Versetto 1, Paolo, apposso di Cristo Gesù per volontà di Dio ai santi, chi sono i santi? Noi. Noi, persone che vivono in Cristo. Sei santo o santa quando arrivi in Cristo. Evesigni 1 inizia con questo. Non è che devi fare qualcosa supernaturale per ottenere la santità, è che lui ha fatto qualcosa supernaturale e lui ti concede, vuol dire la sua santità. Così, Paolo, quando lui parlava, quando gli scrittori nella Bibbia, loro hanno chiamati le persone viventi in ogni chiesa che hanno seguito il Signore, i santi. Perché? Perché in cielo arrivano e quando in cielo Dio finirà il suo, compierà proprio il suo lavoro per conformare i suoi figli all'immagine del suo figlio Gesù Cristo. E ci siamo, santi. E questo è santi in progressione, vuol dire. La posizione ha cambiato. Persi agli santi. che sono in Eppeso e ai fedeli in Cristo Gesù. Non puoi essere un santo fuori dalla grazia di Gesù Cristo. Grazie! Prima parola che ha iniziato. Grazie e pace insieme. Loro sono evidenze che il Signore ha agito per voi e per noi. Lui sta dicendo grazie a voi e pace da Dio. Tutti e due. Grazie e pace a voi da Dio. Possiamo rendere e scrivere la frase così. Grazia che è una cosa che non meritiamo ma è il suo favore. Pace è una cosa che non possiamo ottenere senza che Lui ci concede. Da dove? Dal Dio infinito. Dal nostro Padre. Ha iniziato di comunicare che il nostro Dio non è solo un potere ma è un Padre e dal Signore Gesù Cristo e questa è la definizione di grazia e pace. Gesù Cristo mandato a noi. Carissimi, quando guardi a Gesù vedi anche il Padre. Vuol dire che il Padre ha scelto di rivelare Lui stesso nella persona di Gesù Cristo. così per capire cosa fa il Padre cosa vuole il Padre guardare la vita di Gesù Cristo. Ecco perché Paolo dice c'è un Dio al di sopra di ogni altro Dio in competizione di ogni altra storia di ogni altro giocattolo che possiamo avere di ogni altro narrativo e storia di cui viviamo. Guardate qui versetto 3 Benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Lui sta dicendo Benedetto vuol dire lodato degno Lui è degno vi presento il grande e vero Dio che è degno della vostra lode che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. C'è una parola chiave in questo versetto avete discernato qual era la parola? No Cristo non scherzo è benedetto sì allora quando parliamo della benedizione lui sta dicendo è una guarda il cratere di questo Padre infinito è sopra lui è uno che benedice non maledice non è una maledizione ma ci sono benedizioni che stanno arrivando da lui e arrivando da noi ok quando guardiamo a questo versetto lui inizia con benedizione al Padre quando la Bibbia parla così al Padre vuol dire adorazione lode alla sua grandezza alla sua bontà benedire vuol dire che noi stiamo verbalmente vocalmente dicendo Dio tu sei degno degno di questo degno di questo degno di questo degno di questo e possiamo nominare questo è un modo di ringraziare il Signore di benedirlo però la direzione cambia guardate seconda menzione di Benedetto Benedetti noi ci ha benedetto vuol dire che ha dato concesso i benefici suoi le sue bontà a noi con benedizione spirituale ok allora ho fatto uno slide per capire cosa sta dicendo quando usato di Dio significa lo dare ci siamo quando usato dell'uomo significa benedire o dare un beneficio tutti tutti i benefici di quello che sono veri di Dio sono concessi a noi wow vuol dire che noi non stiamo vivendo in questo mondo senza le sue capacità senza i suoi doni senza i suoi aiuti e così possiamo leggere in questo modo Dio viene lodato perché ha dato ai suoi figli tutti questi benefici spirituali ok vedete la parola lì benefici e questa è una cosa da concentrare perché oggi non è che carissimi io so che avete dei sogni per macchine più più buone per case più belle per capelli più belli unghie più belle benessere eccetera di essere ma la cosa che ci serve di più è natura vuol dire un cuore più ricco un cuore più fornito con benedizione in altre parole non ci serve più roba più roba fisica da gestire ci serve più benedizione dal vero Dio in un mondo ostile e difficile da guidare da navigare abbiamo bisogno della sua illuminazione vero del suo potere perché tutti gli altri dintorno stanno dicendo io ho potere o abbiamo potere e ci sono tutte queste competizioni tra i dei del nostro giorno abbiamo bisogno dei benefici spirituali dal Dio infinito dentro non solo fuori lui ci prende cura amen lui ci prende cura molti di voi state mangiando molte verdure in questi mesi ci sta prendendo cura di noi anche la salute attraverso il chilometro zero ma sto dicendo abbiamo bisogno più dei suoi doni dello spirito in noi e Paolo dice sì questi sono benefici spirituali vuol dire dello spirito dello spirito cosa vuol dire lo spirito agisce nei nostri cuori in un modo super naturale e lui applica questi doni e benefici dal cielo ai nostri cuori ora qui nel nostro presente dalla sua mano pieno di grazia questo è il motivo e così possiamo vivere sotto il regno del padre che è pieno di grazia lui è pieno di grazia amen e così lui regna lui ci guida e essendo sotto il suo regno possiamo guidare perché lui ci dà la capacità l'abilità la resurrezione la potenza la potenza del suo spirito che sia con noi alleluia questi sono i benefici spirituali un vero credente ha bisogno di questi benefici per vivere oggi nella nostra società noi abbiamo bisogno di sapere quando e quanto lo spirito sta agendo per noi Paolo dice non preoccupare tu hai tutti tutti i benefici in Gesù Cristo che lui ha in cielo quello che è vero di lui è ora vero anche di te che accesso che accesso al trono ogni tipo di benedizione spirituale guardate di ogni benedizione spirituale questo vuol dire ogni tipo nel momento che hai bisogno c'è il Vangelo e lui dà lo spirito Gesù ha detto quando un figlio quando venite dal Signore e chiedete quanto lui vi dà lo suo spirito santo quando lo chiedi se tu sei in Cristo basta chiedere sono un figlio o figlia debole ho bisogno di questo beneficio che Gesù ha già ottenuto nella croce e ho ricevuto per grazia che hai pianificato dall'eternità ok ci siamo e così in altre parole carissimi se state ricevendo vuol dire o state pescando la vostra forza da da dove sei la fonte da questo mondo da Tik Tok da Facebook dall'approvazione degli altri amici o dai figli o dai genitori se state pescando ricevendo la vostra forza dalle opinioni degli altri o dalla vista del mondo di intorno da come vedi il tuo mondo vuol dire che dove stai ricevendo la tua pace e la tua gioia internamente fallirà se stai pescando nel nostro mondo la tua gioia perché Dio una benedizione spirituale ci concede cosa la sicurezza la certezza che Dio agisce per noi e che Lui ci ama Lui ci ama questo è la benedizione anche di avere la pace nel cuore che Lui ci ha dato il figlio e nel figlio possiamo amare anche Lui in ritorno e con piacerlo questo è la fonte della nostra gioia e se noi peschiamo da qualsiasi altra cosa tiriamo e tingiamo da qualsiasi altra fonte non avremo la vera pace che offre il Signore il Dio in amore nella sua grazia ogni tipo di gentilezza sta arrivando dal Padre in cielo per il tuo benessere spirituale Dio vuole che se hai benessere di cuore il più che invecchio io io vedo che il mio benessere è difficile fa fatica di mantenere fisicamente ma spiritualmente c'è un benessere che è ricco il più che cammino con il Signore anche per voi Lui vuole che tu diventi pensate più ricco o ricca verso di Lui che verso il mondo può essere che hai meno roba ma più di Lui e quello è una grande benedizione ok ecco il Dio Padre come Lui benedice allora versetto 4 ok dice questo Lui ci ha alletti questa è la prima menzione della parola prima della fondazione del mondo perché fossimo essere o fossimo santi ok c'è un motivo e senza macchia irreprensibili dinanzi a Lui chi adesso è santo irreprensibile e davanti il Signore il Padre chi è Gesù risposta facile vero vuol dire che noi diventiamo conformati al suo figlio avendoci predestinati nel suo amore e quella frase collega versetto 4 con versetto 5 nel suo amore ok vuol dire che la lezione predestinati c'è la parola queste parole erano usate per mostrare che era già una cosa amorevole per portare persone umanità che non meritava essere davanti a Lui stesso guardate qui nel versetto noi abbiamo il dove vedete il dove abbiamo in Lui quindi questo amore non sarà mai fuori Gesù Cristo Gesù è stato la premizia della morte cioè è risorto e sta dicendo padre eccomi è arrivato in cielo ma dietro di Lui migliaia di Suoi fratelli cioè persone che credono e seguono Dio Gesù Cristo Lui è la prima o la premizia della morte risuscitato dove in Lui ok prima del tempo prima della creazione del mondo ha pensato in Cristo quando vedete il quando prima della fondazione del mondo ecco Paolo deve dire abbiamo una storia che va oltre questa grazia è oltre il nostro mondo perché spesso cari la nostra tentazione è di abbassare gli occhi e mirare troppo basso di credere troppo in modo troppo banale di non vedere il grande Dio e quanto grande e bello Lui e benevolente Egli è quindi Lui ha detto ecco quando il perché che noi siamo conformi al Figlio Gesù Cristo questo è il motivo Lui sta già dicendo voglio un popolo perché il primo Adamo ed Eva senza peccato avevano questa immagine e l'hanno perso e i loro semi vuol dire noi i frutti di loro i figli seguiamo la loro natura proprio perché la nostra natura è per pecare non vuole tanto tempo per un bambino imparare come pecare vero? sto guardando Teresa perché il suo figlio è proprio accanto qua lei ha detto ah sì vero vero assolutamente non vuole tempo e Lui ha detto come e questa è la domanda che molti credenti inciampano inciampano su questa domanda perché avendoci predestinati nel suo amore persone dicono ma come come Lui ha scelto ha fatto a random questa scelta no 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 ha fatto in amore amore vuol dire di tesorare o tesorire proprio un oggetto di dire a parte delle qualità dell'oggetto indifferente anche se l'oggetto è rovinato ma di avere un amore che mette al tesoro e che riprende e ripristina vuol dire l'oggetto per il bene dell'oggetto anche se l'oggetto non ritorna lo stesso amore verso Dio questo è un amore che dà che dona e Lui sta dicendo quindi che la lezione è collegata con l'amore di Dio non è un modo che Lui non dice niente che Lui ha maledetto Lui ha predestinato ha letto persone per essere come il suo figlio in amore ok? questo è assolutamente importante non scollegare le due cose guardate il versetto 5 avendoci predestinati nel suo amore in amore predestinate a essere adotati questa è la parola chiave per mezzo di Gesù Cristo ricordate che non non va fuori di Gesù è solo che noi possiamo avere un rapporto con Dio solo tramite Gesù come suoi qual è la parola? figli vuol dire relazione noi non siamo soggetti schiavi che Lui utilizza e butta via secondo guardate il disegno benevolo il suo piano della sua volontà era il suo desiderio e quando Dio scrive la storia Lui ha ogni diritto di scrivere la sua storia la parola adotati questa è una parola scelta e precisata da Paolo nei tempi nei tempi romani c'era questa patria potestas e questa adozione cosa vuol dire? vuol dire che loro i Cesari quando volevano continuare la loro linea come Cesare hanno adottato un figlio specialmente se la moglie o mogli non hanno dato a lui un figlio che lui voleva la cosa che potevano continuare il suo regno era per prendere un figlio sconosciuto e adottarlo nella famiglia del Cesare e far crescere lui come suo figlio questa è la parola questa era l'idea il momento che lui ha suggerito questo subito hanno pensato ma c'era un metodo il metodo è molto affascinante c'era la pratica Cesare hanno preso un figlio ma dovevano comprare il figlio tre volte quindi lavori negli atti del comune Raffaella questo vuole tre atti non solo uno per questo cambio di famiglia stato di famiglia cambio allora il processo andava così il primo passo c'era il primo passo era questi questi passi di acquistare il figlio il figlio vuol dire che è stato rilasciato dal padre naturale Cesare ha comprato e dato in ricompensa una somma poi dopo quello è stato finito lui ha rilasciato il figlio libero è tornato questo figlio per dritto sotto il padre naturale due volte la terza volta la terza volta era che il figlio adottato non poteva tornare più al suo padre naturale perché avevi già un disegno passi in questo vuol dire di vedere se Cesare o qualsiasi padre della famiglia che ragazzi è molto importante sapere questo il padre della famiglia aveva potenza assoluta in tutta la famiglia dritto assoluto poteva anche comandare la morte di uno dei suoi figli o mogli eccetera o servi in casa lui aveva dritto assoluto come un dio sulla terra ok questo padre ha preso ma loro hanno fatto questo processo per mostrare che lui era serio su serio dicendo ok voglio questo figlio bene vorresti sì seconda volta vorresti sì terza volta lui poteva rimanere e questo vuol dire che il suo padre naturale non aveva mai più dritto sulla sua vita la terza volta secondo passo era di assumere patria potestas sopra questo nuovo figlio che lui doveva dare la sua ubbidienza al suo padre per il resto della sua vita o finché moriva questo padre poi lui poteva prendere la posizione di essere padre o patria potestas di essere in controllo dopo è morto il suo padre ma cosa è successo lui sarebbe considerato un nuovo figlio naturale del del padre che l'ha dotato lui poteva continuare la linea di Cesare lui poteva gestire la famiglia più avanti lui aveva tutti i diritti dal padre per un periodo come noi avete visto cosa ha fatto noi siamo figli del nostro padre celeste e lui controlla ogni cosa della nostra vita anche le nostre proprietà vero? non ho sentito niente neanche un amen ok e lui controlla ogni cosa e lo arrendiamo a lui dicendo io sono un beneficiario Dio Dio non muore vero? grande grazie Dio non muore e così vuol dire che noi santi saremo sempre sotto il suo controllo controllo assoluto che è pieno di grazia il figlio adottato ha ricevuto un nuovo nome una nuova posizione un nuovo privilegio un nuovo status nuova proprietà nuove responsabilità e nuovi diritti e non doveva mai tornare sotto la legge del suo padre naturale del passato noi credenti in Gesù Cristo se è entrato Cristo tu hai e hai avuto un padre vecchio e destruttivo il diavolo e lui sempre viene nella tua vita e chiedi ma vai vieni da questo Cesare vieni ritorni da me ritorni da me ritorni da me e lui non aveva mai benefici ma noi ora in Cristo Paolo sta dicendo siamo adottati noi abbiamo un nuovo padre che è pieno di amore compassione e lui abbondantemente ci concede il suo favore la sua grazia in Gesù Cristo e lui vuole il migliore per noi noi tutti bello il vecchio padre non vuole che ritorni e agisci con lui adozione era sempre vantaggioso al figlio ecco amore un posizione vantaggioso al figlio o alla figlia quando entriamo Gesù Cristo siamo adottati Gesù no Gesù era il figlio non deve essere adottato lui è il modello il campione il nostro campione e noi siamo adottati accanto a lui come fratelli e sorelle della famiglia avete capito con i suoi diritti del figlio naturale quando siamo adottati siamo inclusi nella famiglia è una cosa amorevole che il padre ci ha concesso perché non meritevamo niente non avevamo mai benefici eravamo persi crudi e nudi ammalati distrutti persi tutto quanto e questo è come il segno dell'adozione ci permette di avere un nuovo status di relazione con il padre fuori il nostro mondo e dentro il nostro mondo simultaneamente noi riceviamo tutti i benefici di quello che il padre dà a Gesù vengono a noi che bella illustrazione l'adozione amén amén ah c'è questo sempre questi problemi e domande sulle lezioni concludo con queste sette verità potenti sulle lezioni di Dio applichiamo va bene Dio aveva un piano perché senza non saremo qui oggi questa è la prima cosa grande senza un piano siamo persi qualcuno deve prendere un piano Cesare per adottare deve avere un piano lui doveva acquistare il figlio Dio prima dell'inizio del mondo ha pensato di te ha chiamato il tuo nome migliaia su migliaia di anni fa che Dio potente e non potevo essere qui se lui non aveva un piano e lui ha mantenuto il suo piano con le sue promesse sempre e non ha mentito neanche una volta che Dio costante numero due tutti di noi sono persi all'inizio vuol dire che nessuno di noi merita niente di essere scelto da Dio ricordate prima del tempo lui ha accolto ha letto le persone umanità prima che noi abbiamo distrutto il suo mondo prima che abbiamo praticato la corruzione tutto nessuno cerca Dio ma lui cerca noi questo è amore nessuno la Bibbia dice Romani 3 10 non c'è nessuno che cerca Dio cerca con piacerlo Dio nel suo piano cerca noi e offre a noi Gesù Cristo altrimenti non c'è nessuno che merita qualcosa nei diritti o davanti agli occhi di Dio avete capito quello quello è la base dall'inizio molte persone dicono che Dio non è giusto non è equilibrato di fare questo ma vi dico la cosa inequilibrata o ingiusta è che lui ci ha amato comunque perché non c'era nessuno che meritava il suo amore ma per lui di venire e chiamare persone al suo nome in amore quello è una cosa non giusta dalla parte sua è una cosa amorevole numero 3 amore e lezione vanno di pari passo mano in mano sono collegati non possiamo separare questi non possiamo accusare Dio di non essere un Dio pieno di amore nelle sue cose come lui dirige come segue e badare questo mondo il nostro universo questa è la cosa che Paolo inizia in Efeso di dire avete un Dio più grande e stabile e più amorevole di qualsiasi altra storia che state seguendo numero 4 Dio invita tutti a volgersi a lui in Gesù Cristo Charles Spurgeon ha predicato nella croce quando Gesù ha aperto le sue mani inchiodati sulla croce era un invito e un abbraccio per tutto il mondo venire a lui e per le persone che rifiutano rigettano a lui conferma che non volevano a lui e non cercano a lui comunque carissimi se tu hai ricevuto Gesù Cristo era perché ha risposto alla sua vita il suo invito lo spirito ha agito gloria a Dio quanto profondo è andato per trovare ognuno di noi numero 5 Dio provvede attraverso Gesù Cristo solo il tuo destino è stato pensato era già deciso e previsto prima che nascessi c'era Dio in Gesù Cristo prima che il mondo è stato formato ha già dedicato Gesù per venire per essere il lato amorevole di Dio la nostra salvezza il destino era un destino vantaggioso pieno di grazia avete capito? non era un destino di distruzione lui ci sta chiamando prima che nascessi e numero 7 Dio è sovrano e ha ogni diritto di scrivere la storia nel modo che desidera lui e lo scrisse pieno di grazia con grazia se a te non piace la sua storia vai a creare il tuo universo e vivi in quello ma questo è il suo universo è il suo mondo e lui ha scritto pieno di grazia grazie che oltre il nostro mondo per la lode della sua gloriosa grazia che ci ha concessa nel suo amato figlio concesso vuol dire ci ha graziato graziato noi la parola grazia è una parola del Vangelo in una singola parola la Bibbia ci chiama all'azione agite non solo per il nostro intelletto non solo per imparare più cose ma di agire rispondere a Dio e ricevere la sua grazia non facendola attraverso le nostre performance ma ricevendo dicendo senza il tuo piano senza il tuo invito senza Gesù Cristo non posso avere mai una relazione con te e quando lo riceviamo riceviamo perché lui cambia la nostra volontà desidero Dio non solo che io credo che Dio c'è ma lo desidero voglio seguirlo voglio riceverlo voglio questa grazia la Bibbia non ti parla solo che tu sedi e stai tranquillo per dire ok mi va bene perché ho saputo qualcosa della Bibbia no la Bibbia domanda che rispondi a questo invito dalla croce domanda a te se hai sentito questo e hai capito questo messaggio oggi rispondi con tutto il cuore verso Gesù Cristo e la richiesta di Dio stesso ma dovete capire che il diavolo è attivo non tornare a lui non andare indietro al padre naturale che avevi una volta guarda come lui agisce lui vuole distrarti lui vuole che tu dubi dei dubbi e dubitare tutto Dio veramente mi ama Dio è così buono come Robert ha predicato Dio guarda a me come il suo tesore prima del spazio e tempo lui veramente ha pensato di me migliaia di migliaia di anni fa e lui vuole che tu inciampi dibattiti di diventare scettico cinico e così guardi la dottrina preziosa della lezione predestinazione come una cosa da dubitare di essere scettico ma carissimi vi dico abbiamo appena visto è la parola di Dio qui se inizi di separare guardate separare l'amore di Dio la grazia di Dio fuori dalla dottrina che abbiamo appena visto nella parola stai facendo Eva e Satana che ha detto ma Dio ha veramente detto così è così buono veramente Eva noi non siamo più intelligenti che Eva il momento che tu assecchi la dottrina dell'amore e la grazia di Dio infinito e padre in una formula inizierai di dubitarlo e dirlo accusarlo tu non sei giusto non parli più del suo amore non parli più della via di Gesù Cristo e diventa un ciclo viziato vizioso vizioso e così il diavolo in quel momento ha vinto con tutti questi dubbi questi argomenti dibatti ogni dottrina è preziosa e devi portarti a Gesù Cristo per amarlo di più carissimi siete stati graziati cioè la grazia è veramente sorprendente nel momento in cui l'odi Dio per questo è veramente sorprendente il momento che tu dici wow signore quanto grande è la tua grazia ti lodo perché vedo il tuo amore è piano e io rispondo io alla tua parola diventa stupenda grazia perché ha trasformato il tuo cuore verso di lui e c'è solo un Dio che può fare quello un Dio con grazia che è fuori e oltre il nostro mondo alleluia e amén grazie a tutti grazie a tutti